ciao sono leonardo raso della lr immobiliare oggi vi presento un delizioso appartamento bilocale a roma zona morena gregna di sant'andrea quasi al confine con il comune di sciampino dotato di ingresso indipendente si entra in una corte di uso esclusivo dalla quale si accede all'immobile posto al piano rialzato di una parazzina in tinta di tre piani attraverso una porta del blindata entriamo in un accogliente soggiorno con cucina a vista attraverso un disimpegno accediamo alla camera matrimoniale a un altro ambiente utilizzabile come studio e ad un ripostiglio l'immobile è dotato di un ampio bagno con doccia e finestra abbiamo visitato un delizioso bilocale che con qualche accorgimento può anche essere trasformato in un trilocale e che può risultare un'ottima opportunità di investimento perché la palazzina in cui è ubicato l'immobile si trova a circa tre chilometri e mezzo dall'aeroporto di ciampino l'immobile non ha spese di condominio ed è termo autonomo ed è dotato anche di aria condizionata le condizioni interne dell'immobile sono buone c'è da fare qualche piccola attività di ammodernamento e gode di un accorte di uso esclusivo molto molto gradevole in cui poter trascorrere piacevoli momenti all'aria aperta per vedere foto video e planimetria di questo immobile puoi visitare il nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o seguirci su tutti i nostri canali social LR Immobiliare è la tua casa in buone mani